Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di una presunta spaccatura e tensioni all'interno della maggioranza per la manovra 2025 che per l'appunto contiene anche la riforma tra virgolette delle pensioni per il prossimo anno. Infatti lo scontento dei pensionati è stato visibile sin da subito tra commenti e manifestazioni. Ora sembrerebbe che dentro la maggioranza emergano le prime spaccature per il malcontento per la manovra. Vediamo insieme tutti i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. La manovra 2025 ha sollevato tensioni all'interno della maggioranza di governo con Lega e Forza Italia che esprimono malcontento per l'impostazione voluta dalla premier Giorgia Meloni. Entrambi i partiti chiedono una mediazione su temi chiave come pensioni e fiscalità, proponendo soluzioni che escluderebbero altre misure per contenere il bilancio. Il confronto serrato tra Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia si concentra su diversi punti, il canone RAI, le criptovalute, le pensioni minime, la web tax e l'IRPEF. Anche i sindacati e parte dell'opposizione si oppongono in maniera ferma alla manovra 2025 presentata in Parlamento lo scorso 23 ottobre. Tra le proposte spiccano le manifestazioni dei pensionati organizzate dai sindacati SPI, FLC e CGL in programma tra il 28 e il 31 ottobre. Le rivendicazioni riguardano l'aumento delle pensioni, il rafforzamento del servizio sanitario nazionale e un sistema fiscale più equo. Nel dettaglio la Lega ha espresso opposizione contro l'aumento del canone RAI e la tassazione sulle plusvalenze da criptovalute. Forza Italia invece critica duramente l'incremento minimo di 3 euro alle pensioni minime e si oppone alla web tax che penalizzerebbe le piccole e medie imprese italiane parificandola ai colossi digitali. Su questo punto il capogruppo di Forza Italia Gasparri ha ribadito che la web tax dovrebbe colpire soli grandi operatori responsabili di concorrenza sleale e evasione fiscale. Bisogna togliere a Bezos per dare di più ai pensionati e ai contribuenti, ha affermato Gasparri. Un altro tema che ha portato divisione all'interno della maggioranza riguarda la riduzione della liquota IRPEF per il ceto medio. La proposta della maggioranza prevede nello specifico un abbassamento della liquota del 35% che non ha trovato sostegno tra gli alleati. Antonio Tagliani di Forza Italia ha suggerito di ridurre ulteriormente la liquota dal 35 al 33% e di allungare i beneficiari aumentando il tetto del reddito a 60.000 euro. Per quanto riguarda infine il fronte delle pensioni c'è un altro punto di disaccordo riguarda nello specifico la previdenza integrativa. Durigon della Lega, sottosegretario al lavoro e rappresentante della Lega stessa, ha manifestato la propria insoddisfazione verso la flessibilità in uscita prevista dalla manovra, ritenendola inadeguata rispetto alla riforma proposta dal suo partito. Durigon sta promuovendo l'idea di obbligare i lavoratori a trasferire il 25% del TFR alla previdenza complementare allo scopo di garantire assegni pensionistici più consistenti. Infine la manovra introduce anche il bonus Maroni volto a incentivare i lavoratori a ritardare il pensionamento. Il bonus nello specifico prevede un incremento retributivo del 10% in busta paga per coloro che rinunciano alla pensione anticipata utilizzando lo strumento di quota 103 o che maturano i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2025. Queste dunque le spaccature all'interno della maggioranza. Voi cosa ne pensate? Come sempre fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video. Grazie.